Il comune di Montesilvano ha organizzato una passeggiata empirica in carrozzina a cui hanno partecipato 140 studenti di terza media dell'istituto troiano delfico. È fantastico questo progetto perché i ragazzi hanno capito perfettamente tutto, hanno capito quindi il vero significato della disabilità, tant'è che hanno potuto verificare che in pochi metri si è bloccati o si rischia di cadere. È stato anche molto eloquente un atteggiamento di un ragazzino che di fronte a una barriera architettonica addirittura ha pregato il Signore perché ha rischiato di cadere, siamo ovunque naturalmente e c'è veramente tanto da fare su questo argomento, però davvero abbiamo realizzato, abbiamo abbattuto le barriere architettoniche negli uffici pubblici, abbiamo applicato la convenzione ONU all'interno del nostro comune, sono dieci anni che lo facciamo, interveniamo ora recentemente, interveremo nei parchi per cercare di rendere inclusivi tutti i parchi, non solo le giostre, non solo i giochi. Insomma c'è una grande attenzione per la disabilità a Montesilvano. L'esperienza ha consentito agli studenti di toccare con mano le difficoltà che le persone con disabilità incontrano quotidianamente. Il fatto che non si riesce a salire sopra alcune discese o comunque delle mattonelle non aggiustate come si sarebbe dovuto fare. Potevi immaginare che fosse così complesso passeggiare in carrozzina? No, perché se prima non l'affronti questa esperienza non puoi capire quanto è difficile.